rieccoci ragazzi dopo che mi sono calmato riproviamo a sto bastardo che era morto cazzo era morto avrei potuto evitarmi sto video vabbè che dobbiamo dire i souls sono questi ti fanno gridare e bestemmiare come non mai basta che ora non mi fa finire pure tutte queste cose che a me questa mi serve davanti dai dai e mi ha preso sta casca è schivata di merda guardalo va guardalo va alla puttana di sua madre grazie guardalo Spostati. Siamo morti. Ma lappan kulta che ci stiamo avanti. che puttana no no cazzo ma vaffanculo tu e la carica di merda e cazzo muori muori cristo bastardo amplificatore della fiamma ergo e molla delle fiamme vediamo a che serve impregna temporaneamente l'arma con il fuoco ah ok equipaggia con una smerigliatrice si può attivare stando in posizione di guardia con la smerigliatrice non si può utilizzare spesso bah scambia materiale parte del nucleo il nucleo di una madre del fuoco è possibile dare un braccio ah ci fa il braccio di fuoco noi ce l'abbiamo elettrico questo è per l'impugnatura vabbò è questa 5000 le solite cose va bene guarda tu guarda la spada di quel poveretto è morto subito a sto giro eh a primo colpo vedete come sono sti cazzi giochi di merda allora torniamo da facendo dalla fabbrica di peniglia dobbiamo trovare sempre a coso qua al lecchino ok allora prima di tu eccolo qua allora già l'abbiamo c'è vabbè dunque uno due due e allora stamina ci serve e il peso ci serve poi abbiamo 423 eccolo qua un po' ti vengo a parlare qua c'è esami la mia ripetizione io vengo a qui per la giuca di onde sono ancora qui grazie vabbè 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 potenzia c'è ne manca sempre uno altra l'impugnatura avevamo capito è quella là le armi va bene quindi niente siamo a posto c'è da vedere da quello però 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 il braccio vediamo che ci dice pure il geppetto questo che abbiamo trovato amichetto suo ma vengo da te aspetta un attimo punti ego non me ne ha dati ne abbiamo 0 quasi come cazzo è cambia forma nessun ricordo boh questa cosa non l'ho capito il braccio allora sotto lo devo fare ricordi ricordi non non è sorpreso che alcuni puppetti non ricordi un po' ergo puppetti che si comportano che non erano stati in quel modo ma si inizia a dirgire da solo se il libro è al vidrio controllarlo niente io ho trovato questo questo non mi ha detto un cazzo va bene poi diceva trova arlecchino là che cazzo dovevo trovare ed è già qui è già qui volevo vedere una cosa magari torna qua hotel qua qua non c'è niente torna qui torniamo un attimo qui perché devo vedere come è possibile che questo si ritrova già qua e noi non l'abbiamo trovato proprio perché aveva detto è andato a chiudere le porte ma io non l'ho trovato da nessuna parte io ho trovato solo il boss poi da qua vediamo si prosegue a meno che lui non era da ste parti qua si scende qua si scende questo è esplosivo secondo me contenitore di fuoco non l'abbiamo per ora posso tornare a parlare con quello là un arlecchino ma non c'è altro ma l'avvento è tua esplosivi ma esplode si è spattolato il deficiente potenzialmente di farlo il genere questo praticamente è una miniera che cazzo è vediamo se troviamo un altro falò cosa hai evitato? allora è figlio di putt guarda là bastardo ok testa della chiave inglese grande che cazzo è? un'arma? si cioè li prendiamo con una chiave inglese ok ok in modo può scendere bastardo no 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 ok oh potenziamo la spada chi è quello oh cazzo di nuovo quel bastardo c'è questo se l'ammazzo però non risponde più capito oh e pezzo di merda guarda va dai cazzo va va gli potevo fare il coso per massacrarlo niente che crepa amuleto del portatore ci ha dato l'amuleto vediamo amuleto amuleto allora aumenta il PV ma aumenta i danni inflitti ai burattini del portatore aumenta il limite di peso ah buono però ci toglie la la vita ci toglie la vita allora quanto c'ho di vita io dove lo vedo dove lo vedo il PV ma vediamo se le muovere ma dove cazzo è cambia visualizzazione ah vitalità 4,40 4,12 vitalità migliora capacità forse PV slot favola recupero guardia attacco fisico acido frattura una moneta capacitaria sul burattino sul simbolo si possono imprimere informazioni ergonite di tutto il momento per fare datere speciali i burattini hanno il loro ultimo passo la valuta di fronte la tomba dei burattini ho capito l'amuleto del portatore 41 ci rende più leggeri ci ha tolto un po' di vita questi i consumabili ma questo li dovrei togliere adesso la vita ce l'ha tolto un po' abbiamo perso ma va bene almeno sono più più leggero quindi questo è morto e non risponerà per la lunata con questa si potenzia ancora di più l'arma a posto devo trovare per forza un punto di selvataggio eccolo eccolo a posto fantastico meglio di così allora innanzitutto vi ripeto come prima run a me non me ne frega niente via andiamo a potenziarci e potenziamo l'arma devo fare pure quel cazzo braccio di fuoco ok la signora sta là mo ci andiamo poi devo parlare pure col tipo qua allora potenzia l'arma vedi pietra pietra lunare pietra no pietra lunare della luce è crescente una e non ce l'ho ecco che ci ha dato allora cosa è quella cosa che ci ha dato non era quella pietra lunare un pugnatore no questa è la manovella tecnica sviluppo va bene niente quindi ok va bene così però scusa sta pietra lunare eccola qua materiale di potenziamento lama di un'arma speciale fino a più 3 un materiale molto raro che si può tenere potenzia pietra lunare della luna calante del patto potenzia la lama di un'arma speciale fino a più 3 un materiale di miglioramento molto raro che si può ottenere in diverse zone di cratta può potenziale le lame delle armi speciali la farfalla cieca era la desperata ricerca di un salvatore era come se volesse che almeno questo mondo comunque questo ce l'abbiamo adesso devo fare il braccio ecco il braccio lo cos'è ah cambia braccio crea braccio crea braccio flambenga ed è questo qua forza motrice c tecnica di sviluppo a forza motrice a dc a occhio di falco eh ma non ne posso fare manco uno quando va ah no ne ho uno è un precutore della fiamma ad alta potenza questo flambè facciamo le fiamme ondata di fuoco aumenta non puoi acquistare altro aumenta l'attacco di fuoco questo è bello ok modifica fulminis mentre ah bello questo è questo questo ok no no non me lo cambio perché a me mi piace questo del fulmine poi con te ho il mio 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 è abbastanza un po' un nuovo papà ah ma ascoltate mi va and on about my concerns and I don't believe I've even introduced myself if the name Venigni rings no bells perhaps you've heard of Kratz Prince of High Society that is because they are one and the same while I sincerely believe meeting Venigni is its own reward I have not rewarded you in the morning 30 sheets of a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder I hope strumento tecnico per la smerigliatrice puoi usare una molla speciale sulla smerigliatrice tramite Venigni o un suo stargazer vari tipi di molla speciale che non deve essere effetto alla tua arma ma che mi fa ma l'effetto si ricarica se torni in vita ho visto un strumento medico della smerigliatrice quindi che ne dici? e quindi ma la fa lui? vediamo lui pulcinella 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 vieni vediamo i libri la questo cos'era? convertitore e non lo so no no aspetta e no non ti vendo un cazzo allora ma quei libri di merda la non si possono vendere allora ma preso proprio per il culo il gatto ok e se acquisto che c'hai ah c'è questo rivestimento allora 7 3 3 7 uno strato interno che assorbe i danni fisici riduce i danni dagli attacchi pendenti 500 l'impegno deve avere un'arma con l'assalto elettrico ah la cosa ok nello stesso momento la svolta dell'impugnatura pure queste materiali oggetti funzionabili parti di difesa 3 3 7 fammi vedere quella che ho io ma questo ora vediamo il braccio è quello di fuoco ma io ho questo qua ora che sparo la cosa poi forse un BB questo qua va equipaggiato tasto di soluzione dei danni di assalto tasto di soluzione dei danni da acido resistenza all'assalto elettrico all'acido tasto di soluzione dei danni fisici e di soluzione dei danni da fuoco ci abbassa l'acido dell'elettrico 3 6 3 9 pesa di più però i danni fisici va bene questo 4 e 12 ok quindi questo me lo posso comprare da impatto non ho capito 3 44 3 30 ah ce lo dice meno 14 e meno 21 però danni tasto di soluzione dei danni da fendente cazzo pesa pure vabbè che c'è? ho capito abbiamo fatto di nuovo che si può lanciare a distanza vabbè questi erano oggetti da lancio ok e crea braccio qual'era? no qua niente qua nemmeno non è questo cambia non è questo vedi peso pesa addirittura di più quello del fuoco modifica abbiamo già fatto ok ok è quel coso la a sburegliatrice ma dato quel cazzo di cosa? che cazzo serve? dov'è? 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 mi senti di che facciare? per questo non ho già depositare è possibile depositare e come cazzo si fa? eh me lo devi fare tu? I always welcome friends cambia mola eh imprende un'arma con il fuoco ok ah quindi c'è pure quella con l'elettricità vabbè ma abbiamo il braccio con l'elettricità e l'arma con la praticamente lo facciamo con la con il fuoco vediamo l1 ah ecco hai visto? l'arma da fuoco e se prendiamo quell'altro ce la fa con l'elettricità va bene va bene intanto adesso parlo dopo intanto fammi allora la vitalità perché mi sono tolto il coso due ah solo due quindi vitalità la capacità del peso e le cose va bene tanto abbiamo l'anello a forza moltrice per la forza legione il braccio questo almeno a dieci cazzo lo dovrei pure portare eh però non lo uso quasi mai la stamina vabbè ce ne servono altre millecento posso gestire l'ergo mi chiamano perché sono in grado di sentire portare l'ergo posso gestire l'ergo adesso tu sei il sole con le voce riesci a raggiungere ok ok un attimo ragazzi l'ergo non che l'ergo Grazie a tutti. 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 Quindi abbiamo l'arma da fuoco, da quello là ci venderebbe pure quello elettrico, volendo, eh? E possiamo fare l'arma elettrica, però io attualmente direi di lasciare tutto così. qua ci manca, ma qua ci manca, ma qua non me ne da... Allora, 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 questo scala in B. Allora, allora, questo scala in B, la spada mi scala in B, quindi mi tengo così come sono. il braccio, il braccio. e mi sono proposto... E ci fa... E ci fa camminare, ci fa camminare, ci fa camminare. Perfetto. 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 cambia, 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 qua qua ce la fa camminare. Ah, qua ce la fa pure cambiare, eh? Quella è normale, quella da fuoco. Perfetto, trasportati e ci ritorna qua. E allora, che vuole che mi rompano le palle? Ehm... Ehm... Ok, e niente, che... No, praticamente, noi dovremmo continuare da qua. Da Clara Luna. I burattini a fare questo. Clara Luna. Allora, aspettate un attimo, raga. a terra. Perfetto. Allora. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.